L'Alba Verde va in cerca di certezze e di punti per continuare a rimanere in ballo nelle primissime posizioni di classifica. Lo farà in trasferta a Crucoli nel difficilissimo campo della Fidelis Torretta. Quest'impegno costituisce uno snodo cruciale per misurare le ambizioni della formazione guidata da Francesca Scollo. L'incontro tra le padrone di casa e le palavoliste nissene è il match clou della quinta giornata di ritorno del girone M della Serie B2, con le padrone di casa a quattro lunghezze dalle nissene che occupano il terzo posto in classifica a un punto dal Crotone e a quattro dallo Zafferana. Sabato mattina breve rifinitura al Palapicasso dove nel pomeriggio alle ore 17.30 andrà inizio il match con la Fidelis Torretta. Volley Serie B2, girone M, diciottesima giornata. Gioiosa Stefanese Fidelis Torretta Albaverde Ardens Comiso Cuscatania Planet Pallavolo Crotone Brico City Funivia Etna Saracena Zafferana Volley Region Procorie Ricina Batrenda Brico City Fun yemek Brico City Functor Brico City Funceans Brico City Fun harmed Brico City Fun 반� Olive